Una lettera formale e un'interlocuzione istituzionale seria, altrimenti l'Abruzzo dirà no ai rifiuti di Roma. Il presidente vicario della regione Giovanni Lolli torna in fretta e furia dal tavolo terramano sul sisma per dire in conferenza stampa concitata che Roma non può considerare l'Abruzzo come una terra da colonizzare. Il nodo del contendere sono i rifiuti, 70.000 tonnellate, che il Comune di Roma deve conferire in Abruzzo per superare la crisi dei rifiuti che attanaglia la capitale da anni e di cui la sindaca Virginia Raggi ha parlato in una recente intervista da Bruno Vespa porta a porta. Siamo indignati e arrabbiati, dice Lolli, perché l'approssimazione della sindaca Raggi finisce per danneggiare la nostra regione. Lolli chiede dunque che ci sia un rapporto su basi istituzionali tra Comune di Roma e Regione Abruzzo e quindi con lettere e atti formali, con incontri diretti perché, spiega il presidente vicario, abbiamo aspetti tecnici e di opportunità politica di cui ragionare. Ad esempio, i discarichi abruzzesi non sono nelle condizioni tecniche di smaltire rifiuti della capitale, essendo in grado di sostenere soltanto quelli abruzzesi. No allo smaltimento dunque, sì soltanto al trattamento dei rifiuti, ma occorre parlarne. Oltre all'aspetto politico sul trattamento dei rifiuti, il governatore abruzzese del Partito Democratico chiede anche un'interlocuzione con il Comune di Roma a proposito dell'arrivo dei bus dall'Abruzzo alla stazione Tiburtina e non come paventato alla Nagnina. Situazione niente affatto risolta, dice Lolli, ma soltanto in qualche modo rinviata e per la quale da diverse settimane ha chiesto un incontro alla Raggi, con una lettera rimasta senza risposta. Grazie a tutti.